Giuseppe Stancampiano portiere, una sola presenza in Milo scorso anno, nel Trapani poi tanta D e 30 presenze in Cine e il Cuneo, un portiere di carattere, con molto carattere. Sì, cerco di dare il mio contributo alla squadra, portando le mie caratteristiche a disposizione del gruppo, che sono quelle di cercare di dare una mano anche a livello verbale e soprattutto spero quei fatti. Penso che anche solo per sceglierlo il ruolo ci voglia un minimo di pansia perché comunque è un ruolo ingrato, basta poco per essere sempre giudicati a livello negativo, però quello fa parte del mestiere e penso che personalmente sia uno dei ruoli più belli.